Ringrazio l'Università Bicocca, il Dipartimento, il professor Sindoni per questa opportunità di collaborazione col Festival dell'Ambiente che si pone proprio nella prospettiva dei discorsi fatti anche oggi cioè pur essendo un evento rivolto al grande pubblico si pone proprio come possibilità di ponte e di collegamento con l'attività che viene fatta a livello della ricerca, a livello delle università e quindi speriamo di poter dare un contributo anche nella stessa prospettiva di cui si è parlato oggi. Il Festival, vi darò soltanto alcuni assaggi di quello che è il programma abbastanza intenso e ampio è promosso da una serie di istituzioni, dal Ministro dell'Ambiente, alla Regione Lombardia, al Comune, alla Camera di Commercio e alla Fondazione Fiera Milano con una serie di partner e di collaborazioni tra i quali appunto della Università Bicocca. Ecco si pone, è nato un po' in questo nel contesto della cultura dell'ambiente, del discorso della sostenibilità ambientale che è presente ampiamente sia nel dibattito comune che nella agenda dei politici e soprattutto viene tradotto ed sarà poi il tema portante al sottofondo del Festival di quest'anno sui temi della cosiddetta green economy. Ma è interessante, noi vogliamo anche sottolineare che il tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale e delle varie attività ha una rilevanza anche a tanti risvolti di tipo culturale insomma che toccano anche la vita quotidiana, che toccano i comportamenti si parla molto spesso di necessità di adottare nuovi stili di vita con varie accezioni ne parla Rega Ambiente, ne parla il Papa, insomma ne parlano da diverse prospettive e quindi è un tema complesso che richiede, come ben sapete, un approccio interdisciplinare e anche una trasversalità di approccio e di sottolineature e in questo senso nasce l'idea del Festival, non tanto per sottolineare l'aspetto festa che c'è anche quello, ma per sottolineare la varietà di modalità di affrontare il tema quindi il Festival si pone non come un maxiconvegno, ma come una varietà di appuntamenti di incontri, di eventi, di occasioni, di comunicazione, di dialogo, di riflessione di approfondimento, insomma proposti a vari livelli a tutta la collettività siamo alla terza edizione, la prima edizione del 2008 si è svolta in un periodo come questo insomma in giugno ed è proprio partito sulla scia, sull'onda della recente allora approvazione dell'Expo 2015, tra l'altro nella prima edizione già l'Università Bicocca aveva partecipato, il professor Rombelli aveva tenuto una relazione durante la cerimonia inaugurale il professor Maggio era intervenuto presentando il progetto EPICA quindi è una storia già di collaborazione già avviata. L'anno scorso la seconda edizione è stata dominata, l'abbiamo poi spostata in settembre dominata dal tema e da tutto il lavoro e dal dibattito attorno al Convenio di Copenaghen e ha sviluppato molti temi legati al COP15. Ecco l'edizione 2010, appunto la terza edizione, il festival in qualche modo viene rilanciato, viene ampliato, ci saranno la partecipazione anche di altre realtà al di fuori, al di là della regione Lombardia e poi c'è la novità dello spazio espositivo nel quale parteciperà appunto anche l'Università Bicocca come prima già stato mostrato riportando la mostra che è qui fuori. Questo spazio espositivo quindi è una possibilità di direttamente agganciare sia aziende ma anche in realtà come istituzioni, come la regione, come i varienti, come l'ARPA e altri che hanno qualcosa da mostrare a tutti sul loro contributo concreto, quotidiano per la difesa dell'ambiente. Poi l'edizione di quest'anno si colloca intorno alla giornata del 5 che è la giornata mondiale dell'ambiente nella quale siamo inseriti e poi si colloca nell'anno della biodiversità come sappiamo e quindi questa sarà una delle tematiche anche portanti del festival. Il festival a differenza delle edizioni precedenti ha una location privilegiata che è il centro Fiera Milano Congressi, a Fiera Milano City quindi qui a Milano e non a Rò sarà l'ingresso da via Gattamelata ma alcuni altri appuntamenti si svolgeranno in altre location come il Museo della Scienza Tecnica e come la Loggia dei Mercanti. Abbiamo organizzato l'evento queste cinque giornate attorno a quattro filoni principali il primo è quello dell'energia quindi della produzione, gestione e consumo di energia e delle soluzioni innovative che si possono presentare soprattutto legate alle fonti rinnovabili e alla fonte più rinnovabile di tutte che è l'efficienza energetica l'altro tema è quello dello sviluppo sostenibile ai vari livelli quindi il discorso del recupero, del riciclo, della mobilità, dei green jobs ed è una nuova modalità di organizzare la città ci sarà un grosso convegno sul circuito Green City che sarà nella seconda giornata con ospiti, con collaborazioni internazionali, con rappresentanti esponenti delle principali città di questa catena delle cosiddette Green City delle quali Milano fa parte quindi il terzo tema è quello della filiera ambiente e filiera agroalimentare quindi in essi tra l'ambiente e il discorso della produzione agroalimentare che è poi il tema principale dell'Expo e infine il tema della biodiversità essendo questo l'anno della biodiversità ecco non vi sto a presentare il programma nel dettaglio nemmeno ogni singolo evento in tutte le sue risvolte voglio soltanto accennare ad alcuni temi, alcuni grossi appuntamenti convegnistici e non per esempio il giorno, dicevo che la Green Economy è uno dei filoni portanti un po' in filigrana di tutto il festival allora Greenomics, abbiamo coniato questo termine sarà il convegno principale nella seconda giornata dove ci saranno anche degli studi precisi portati dal professor del Politecnico e dalla fondazione Simbola che hanno fatto degli studi sulla situazione le potenzialità della Green Economy in Italia in particolare poi avremo altri personaggi che ne dibatteranno e discuteranno un altro tema grosso sarà quello della biodiversità sul versante parchi e territorio e comunità tra progetti e sussiderietà un convegno organizzato da Simbola con Federparchi che vedrà la presenza e la partecipazione di molti presidenti o direttori di parchi un po' di tutta Italia, alcuni della Lombardia ma anche di tutta Italia quindi sarà un confronto un po' su questo tema e su una strategia i parchi sono dei punti cruciali, non l'unico evidentemente ma dei punti cruciali per il tema della tutela e della biodiversità poi invece venendo da altri tipi di eventi sabato nel weekend, sabato e domenica avremo l'apertura del Museo della Scienza Tecnica soprattutto al discorso famiglie e bambini in particolare per una partecipazione all'interno degli laboratori energia e ambiente e del laboratorio alimentazione e poi addirittura domenica una possibilità di uno spettacolo sulle tematiche dell'alimentazione per il pubblico dei bambini con le loro famiglie il sabato sera un'altra cosa che vale la pena richiamare perché ci sarà la proiezione alla loggia dei mercanti quindi aperta a tutti dell'anteprima milanese diciamo del documentario che ha vinto il premio Oscar 2010 The Cove sul tema della mattanza dei delfini documentario molto forte per stomaci robusti ma comunque interessante lunedì il tema invece della mobilità sostenibile quindi il tema dei nuovi motori ci sarà la partecipazione del Dipartimento della collaborazione con il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano che esporrà poi in fiera la macchina il grande punto plug-in che sta mettendo un progetto su cui sta studiando da anni la macchina che potrà essere ricaricata di notte in casa proprio semplicemente collegandosi alla presa domestica e poi con la presenza di altri testimonial anche di produttori e di protagonisti del mondo dell'automotive il lunedì ancora nel pomeriggio un workshop, un momento di lavoro in occasione della presentazione degli atti di un seminario organizzato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente sul tema dell'etica della conservazione appunto cui parteciperà anche il professor Sindoni e sarà un'occasione per approfondire queste tematiche, questo risvolto della conservazione dal punto di vista più ampio dei rapporti con la mentalità con gli approcci in generale alle tematiche dell'ambiente a livello culturale e nel pomeriggio un incontro interessante con un personaggio noto forse a chi si occupa di queste cose ma forse non al grande pubblico l'ingegnere Valerani che ha ideato un sistema chiamato metodo Valerani per il cosiddetto water harvesting cioè quello di un tentativo di rinverdire il deserto cioè rendere possibile nelle zone desertiche attraverso un particolare metodo un particolare sistema di aratura brevettato per rendere possibile la crescita di piante che difficilmente riuscirebbero a fiorire per incapacità di assorbire e di conservare l'acqua e questo è fatto in collegamento in collaborazione col Parco Nord col quale appunto anche abbiamo collaborato che sta tenendo in questi giorni il Festival della Biodiversità che si raccorda col Festival dell'Ambiente perché quello finisce e noi continuiamo e lunedì sarà la giornata un po' che abbiamo dedicato prevalentemente al tema della biodiversità con diversi altri interventi adesso qui non ve li cito tutti ma potete guardarli nel programma che è sul sito voglio segnalare invece interessante forse per i più giovani presenti per gli studenti un incontro che abbiamo già fatto anche l'anno scorso e ha avuto molto successo il tema dei green jobs quindi delle prospettive per le nuove professioni verdi e quindi avremo attorno al tavolo protagonisti del mondo dell'imprenditoria del mondo della ricerca del recruiting del mondo del lavoro in generale che presenteranno le possibilità le opportunità e lo scenario che si presenta in questo momento difficile evidentemente per l'attività lavorativa e come i lavori verdi possono essere un'opportunità per tanti giovani infine due tipi di iniziative un po' originali che proponiamo in questa edizione il giovedì, il primo giorno alla sera, al tardo pomeriggio il primo, l'hanno chiamato Happy Hour Antispray in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare verrà proposta alla stazione centrale di Milano quindi nell'altro prima dell'ingresso alla stazione ma dentro, nell'edificio una degustazione gratuita di ricette studiate appositamente per riutilizzare alimenti che sarebbero scartati è un'idea che non so se avete letto qualche tempo fa è stata realizzata a Londra una grande pranzo di questo tipo in una piazza, non so se a Trafalgaro o a Piccadilli l'idea assomiglia a quella ma ha un'accezione, una sottolineatura più ampia, anche più particolare la scelta della stazione di Milano non è casuale e quindi sarà un Happy Hour di cibi freddi ma con pane, frutta, verdura di stagione materiali che sarebbero scartati non rientrerebbero poi sarebbero scartati dalle cucine prima ancora di essere portati in tavola e verrebbero realizzate delle ricette messe appunto da grandi chef dei gruppi di ristorazione ricette che poi saranno anche disponibili per chi vuole poi riprodurle e sarebbe un'occasione per sottolineare a questo tema dell'alimentazione di un approccio nuovo più interessante, più nell'ottica di una conservazione di una responsabilità proposto a tutti in modo anche così semplice e forse speriamo simpatico e poi altri due l'altro appuntamento quello con quelli che abbiamo nominato eletto come Green Ambassadors ne abbiamo due in particolare quest'anno e sarà nel primo giorno un incontro con personaggi che personaggi pubblici noti per altri motivi ma che hanno dichiarato il loro impegno in prima persona per la tutela dell'ambiente verranno a raccontarci come e perché uno appunto è Billy Costa Curta beh io avrei scelto un'altra maglia ma pazienza va bene l'anno ventuno vedremo di cambiare anche il colore quindi giovedì all'alloggio dei mercanti quindi questi eventi sono proposti all'alloggio dei mercanti proprio per dare un segnale a tutta la città nel centro di Milano non l'abbiamo confinato in fiera e il lunedì in chiusura del festival la presenza di Robert Kennedy III cioè il nipote di Bob Kennedy giovinetto che si è dichiarato che è portavoce della Waterkeeper Alliance e si è dichiarato nei mesi scorsi promotore di un'attività di difesa dell'ambro appunto dominato prima e quindi sarà qui per raccontarci cosa fa la Waterkeeper Alliance e cosa lui intende fare per il lambro questo quindi è in pochi tratti alcuni degli elementi del programma non è il caso appunto che mi dilunghi a raccontarvi tutti gli altri l'invito è a partecipare c'è una varietà di opportunità quindi ce n'è un po' per tutti i gusti e il ruolo della Università Bicocca sarà rilevante perché appunto avremo al centro proprio quella piantina che prima ho fatto vedere della collocazione della vostra mostra sarà al centro dello spazio espositivo e poi ci saranno quelle altre occasioni di incontro con persone e con ricercatori ci auguriamo che possiate partecipare in tanti e in particolare appunto attraverso le altre iniziative espositive ce ne sono anche le volte ai giovani delle scuole superiori ci sono altri momenti di esposizione curiose come questa realizzazione artistica fatta con materiali di riciclo e poi un'altra presenza della vostra Università la centralina mobile per il rilevamento acustico che sarà collocata in fiera e sarà mostrato proprio avvisivamente a tutti la possibilità come è possibile rilevare e visualizzare i dati ripresi in diretta sull'inquinamento acustico di Milano ecco questo allora è l'invito a partecipare fin d'ora scrivendovi sul sito e visitando sul sito il programma che è aggiornato e ricevendo una newsletter per chi si iscrive grazie